Quali sono gli anime più interessanti di questa primavera 2021? Faccio questo video per rispondere proprio a questa domanda e sono sicuro che non resterete delusi. Il video in questione è solo la prima parte di due video, ognuno di questi avrà 5 anime per un totale di 10. Non saranno dei video top, quindi le opere sono messe in ordine sparso. Detto questo, direi di non perdere l'altro tempo ed iniziare subito. Il primo dei 5 anime di oggi è Tokyo Revengers, anime ancora in corso, che avrà 24 episodi da quello che ho capito e che quindi non è nemmeno metà. L'opera si concentra sulle vicende di Takemichi, un 26enne fallito che in giovane età era un teppista e che è finito a chiedere sempre scusa abbassando la testa. Un giorno scopre che la sua fidanzata delle media è stata uccisa dalla Tokyo Majin Gang e il giorno stesso viene spinto sotto un treno. Pieno di rimpianti gli passa tutta la vita davanti agli occhi sin quando viene effettivamente riportato indietro nel tempo, all'età di 14 anni, ovvero 12 anni nel passato. Decide quindi di salvare la ragazza che amava, ovvero la Dolce Inata, e per farlo si allera col fratello della stessa. Per fermare la Tokyo Majin Gang è diventata non più una banda di teppisti ma una vera e propria organizzazione criminale molto più che pericolosa. Quest'anime mi piace così tanto che sto seguendo il manga e i disegni sono molto particolari. Mi piacciono tantissimo e la caratterizzazione dei personaggi è fatta veramente molto bene per quasi tutti. I design di Inata e Mikey sono stupendi e Draken è il mio personaggio preferito. Mi piace un sacco come si evolve il rapporto fra i vari protagonisti e la storia è veramente molto intrigante con dei bei colpi di scena e un ottimo sviluppo. In un'ipotetica top 10 non faticherei a mettere Tokyo Revengers in prima posizione. Di Shadow House ne ho parlato in un video apposito quindi vi rimando lì per delle info più complete. L'opera narra la storia di una famiglia composta da ombre, gli shadows per l'appunto. Essi non hanno un volto e per questo hanno delle bambole personali che prestano loro il proprio volto in modo da esprimere meglio al loro interlocutore le loro espressioni facciali e le loro emozioni, oltre che a mantenere pulita la casa in cui vivono, in quanto queste ombre espellono dal loro corpo una strana sostanza nera che quando si accumula prende vita. Le due protagoniste sono un'ombra, Kate, e la sua bambola, Emiliko. Personalmente mi piace tantissimo lo stile dell'opera e adoro quello del manga. Ammetto che l'autore è riuscito a trasmettermi più volte durante la sua lettura l'impressione che il design fosse perfetto per la storia raccontata, cosa che l'anime non è riuscito a darmi. Nonostante io lo apprezzi tantissimo e lo consideri uno dei migliori anime degli ultimi anni. Personalmente considero Shadow House un anime non per tutti in quanto si allontana molto dagli anime più popolari, ma se siete curiosi e se vi piacciono gli anime di questo tipo apprezzerete sicuramente quest'opera e la sua storia. Ennesima opera di Mashima, personaggi copia in colla dell'opera precedente, ma andando avanti sto cambiando man mano idea su quest'autore e la sua nuova opera. Eden Zero è un anime che sto apprezzando molto, il tipico shonen con potere dell'amicizia e personaggi OP, ma è una formula che su di me riesce sempre a fare colpo. L'opera racconta di Shiki, un ragazzo cresciuto in un pianeta in cui vivono soltanto macchine e che un giorno incontra Rebecca, un'umana venuta in visita sul suo pianeta. Dopo varie peripezie, i due partono in un viaggio attorno allo spazio e ai pianeti che vi si trovano, in cerca di nuovi amici e di nuove avventure. Ecco, trama banalissima e per nulla interessante. Il tutto sta nel come viene gestita e per ora direi veramente bene. È un anime molto leggero che non ha nulla di particolare e restandone suo riesce a farsi trovare interessante. Ma ciò che più personalmente apprezzo sono le caratterizzazioni dei vari personaggi, principalmente di Rebecca Deppi. Non è nulla di che, attenzione, c'è sicuramente di meglio in giro fra i vari anime, persino di questo video. Però devo dire che sto apprezzando di più questo Death Zero che Fairy Tail, e anzi direi che si nota facilmente il salto di qualità. Il problema ma sono i design riciclati, ma questa cosa Moshima se la porta dietro da tanto. E a parte quello direi che lo sto apprezzando particolarmente e non vedo l'ora di poter mettere le mani sul manga per gustarmi i disegni originali dell'autore. Kwekimo è stato il primo stagionale non sequel che ho finito in questa primavera 2021 e l'ho amato veramente tanto. Mi ha fatto compagnia per tutta la stagione. La storia parla di Ryo, un 27enne a cui viene salvata la vita da Ichika, una studentessa del secondo anno che è anche la migliore amica dello stesso Ryo. I due si incontrano il giorno stesso a casa del ragazzo e dopo averci provato con Ichika viene rifiutato con disgusto, per la prima volta. Da questo momento in poi si invaghisce della ragazza e da qui inizia la loro storia, un amore a senso unico da parte di Ryo che è destinato a non essere ricambiato mai. O chissà, magari la stessa Ichika potrebbe iniziare a provare qualcosa per il povero Latin Lover, ormai cotto per la fredda e spietata liceale. Personalmente lo trovo un anime che offre una doppia interpretazione. Da un certo punto di vista è un'opera molto leggera, una bella storia d'amore, niente da dire, ma molto divertente e con pochi momenti veramente emozionanti o particolarmente toccanti. Ma dall'altro lato in Giappone la pedofilia è una realtà molto difficile e reale. Un'opera come questa non passa sicuramente inosservata, soprattutto dato il suo volversi della storia, perciò un 27enne che ci prova con una liceale non è una cosa socialmente accettata e ci viene mostrato anche verso la fine dell'opera. Tanto da mettere in dubbio lo stesso Ryoko e non sa se continuare il suo corteggiamento o meno. Ma non vi dirò altro nella speranza che possiate godervi a pieno quest'opera come ho fatto io. L'ultimo degli anime di oggi è quello che mi ha colpito di più per ambientazione e trama, ma quello che ho apprezzato di meno, almeno fra gli anime inseriti in questo video. 86 narra di un paese popolato dagli alba, persone con capelli ed occhi grigi che considerano non umano chiunque sia diverso da loro. A coloro che non rispettano le loro stesse caratteristiche fisiche viene affidato l'ingrado compito di pilotare dei robot per combattere contro la legione e impedire ai nemici di raggiungere la loro repubblica. Purtroppo loro per l'appunto non vengono considerati umani e quindi ogni loro morte viene ignorata e vengono considerati solo dei processori che quando si guastano devono essere sostituiti. La protagonista della storia è Vladilena Milise, capitano della squadra di Shineno Zen, chiamato anche Becchino per aver fatto suicidare un sacco di capitani prima della nostra protagonista e per aver seppellito i suoi stessi compagni caduti in battaglia. La storia diciamo è che è una rivisitazione della Germania nazista e del comportamento dei nazisti verso gli ebrei, ma molto più romanzato ed adatto ad una storia fantasy. Personalmente la protagonista la trovo molto fastidiosa e insulsa. Non riesco a farmela piacere, la considero molto umana ma poco coscienziosa e spesso incoerente con le sue azioni, ma ripeto, è considerabile tranquillamente un comportamento umano il suo. Non critico la scelta dell'autore di gestirla in questo modo, ma semplicemente sono io che non riesco ad apprezzarla come personaggio. A parte questo, sto seguendo 86 per la storia e lo trovo un anime veramente tanto interessante. Comunque questo è tutto per il video di oggi, non dimenticate che presto uscirà la seconda parte con altri 5 titoli di questa primavera 2021. Se il video vi è piaciuto vi invito a condividerlo con i vostri amici per supportare il canale e non dimenticate di iscrivervi se non siete iscritti e se vi va seguitemi su Instagram per non perdervi eventuali aggiornamenti relativi al canale. Noi come sempre ci sentiamo al prossimo video.